Buonasera e benvenuti a tutti. Mi fa piacere vedere una platea così numerosa in questa occasione di presentare una rivista storica, una rivista che riguarda la storia di Torino, quindi ci fa molto piacere. Noi, la nostra istituzione da sempre conserva un vastissimo patrimonio legato alla città e alla regione che conserviamo e mettiamo sempre a disposizione dei nostri utenti, per cui questo si aggiungerà al nostro 1.350.000 volumi che rappresentano il nostro patrimonio e che permette la conservazione della memoria storica di questa regione assieme ad altre istituzioni culturali molto rilevanti, quali la Biblioteca Civica e l'Archivo di Stato. Quindi confesso che me lo trovo ora davanti agli occhi, ma il nostro compito è quello di conservarlo poi, diciamo così, per sempre e per sempre metterlo a disposizione dei nostri utenti, per cui non importa se ancora non l'ho aperto, perché il nostro compito è quello di conservarlo per il futuro. Ringrazio tutti della vostra presenza, in particolar modo del signor Sindaco che oggi c'è un'ora della sua presenza. Quando il 18 settembre abbiamo inaugurato questa sede che è stata rifunzionalizzata come auditorium, ci eravamo proposti di aprire questo spazio, che è della Biblioteca, a tante associazioni culturali e enti culturali di Torino e quindi ci fa molto piacere in questa occasione presentare questa rivista. Tra l'altro appunto mi fa piacere che oggi sia presente il signor Sindaco perché dal 18 settembre siamo stati onorati della presenza di vari rappresentanti delle istituzioni di Torino, a cominciare da sua eminenza l'Arcivescovo di Torino che ci è venuto a trovare. Ieri avevamo qui su eccellenza il prefetto, abbiamo avuto il direttore generale della Banca d'Italia, abbiamo fatto la commemorazione dell'ambiente con l'assessore al verde pubblico di Torino e quindi oggi mi fa molto piacere che sia toccato anche al nostro sindaco, il quale tra l'altro è un nostro sostenitore, nel senso, pur non essendo forse credo ancora venuto in questo nuovo auditorium, però ricordo che una qualche associazione culturale, ora di cui non ricordo il nome, è venuta qui per fare la sua presentazione e ci ha detto espressamente che glielo aveva consegnato il sindaco, per cui è un nostro promotore per questa nostra attività di apertura al territorio. Per cui vi ringrazio ancora della presenza e grazie. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti, grazie di essere qui alla presentazione della rivista Torino Storia. Un ringraziamento va alla Biblioteca Nazionale Universitaria, a Guglielmo Bartoletti e il suo direttore per l'ospitalità in questa sala nell'auditorium Vivaldi e al generale Franco Cravarezza, presidente dell'associazione Amici della Biblioteca Nazionale Universitaria. Un ringraziamento particolare al sindaco di Torino, Pierfassino, e oggi, appunto, come sapete, presentiamo ufficialmente la rivista Torino Storia, una rivista mensile che è nata da poco ma con una risposta di pubblico, dobbiamo dire già, molto incoraggiante. Con l'ambizione di raccontare la storia di Torino in modo preciso e documentato, ma anche interessante e accattivante. Speriamo si noti, anche immediatamente, a colpo d'occhio, che questa rivista ha questa ambizione e sta provando a fare questo. Torino Storia viene distribuita in abbonamento annuale o in tutte le edicole, più di 600, della città di Torino e di Prima Cintura, nei bookshop del Museo Egizio e del Museo Pietromicca, presso il quale saranno conservati e potete trovare in vendita tutti i numeri della rivista. Sono usciti al momento due numeri, quello di novembre e di dicembre, che trovate nel foyer ad un prezzo speciale. Per il numero di dicembre, tra l'altro, è un'esclusiva assoluta, perché non è ancora in distribuzione nelle edicole, lo troverete fra qualche giorno. Sempre nel foyer potete anche abbonarvi direttamente alla rivista, iniziando a riceverla già dal numero di dicembre. E infine, come promesso, trovate anche in distribuzione gratuita il numero zero della rivista, dal quale è partito questo progetto, che speriamo vogliate continuare a condividere insieme. Io passo adesso la parola al direttore della rivista Torino Storia, Alberto Riccadonna. Buonasera, grazie di essere così tanti questa sera. Voi sapete che, molti di voi sanno almeno, che questa rivista è nata con un antefatto, cioè c'era stata una scommessa, abbiamo lanciato una scommessa, abbiamo fatto un numero zero della rivista, e abbiamo detto, la facciamo esistere se mille lettori sottoscrivono un abbonamento ideale, no? Cioè dicono che gli interesserà. Se no, vuol dire che non interessa, è inutile metterci, sì. Questo accadeva al 25 di aprile dell'anno scorso, arrivati a settembre, questo numero era raggiunto, e quindi noi abbiamo avviato le pubblicazioni. La vostra presenza qua è un segno ulteriore di questa simpatia che noi sentiamo verso questo progetto, che nasce proprio così, no? Per rispondere e per interpretare l'interesse che c'è attorno all'idea che ispira il nostro lavoro. E l'idea è questa. Noi cerchiamo di raccontare, diciamo così, rivelare il passato dei luoghi nei quali viviamo. Rivelare nel senso che, non raccontare le cose che noi già sappiamo, ma ogni mese dire qualcosa in più che racconti il passato dei luoghi dove lavoriamo, viviamo, le strade che percorriamo, di modo che ciascuno di noi, dei lettori, di tutti, sappia qualcosa in più di se stesso. Questa è l'idea generale di Torino Storia. L'ipotesi è che esista una curiosità istintiva in tutti noi quando gli si racconta qualcosa del suo passato, gli si fa vedere casa sua com'era cent'anni fa, gli si faccia vedere le vie della città, le fabbriche, le piazze, le chiese, i fiumi, le colline, com'erano prima che succedessero delle cose. E' vero che voi sapete che quando esce un libro di cartoline va sempre a ruba. Quando esce un libro a Torino sotto le bombe, com'era, viene acquistato. Perché? Perché siamo tutti curiosi di sapere qualcosa di più in fondo di noi stessi. Ecco, è questa l'idea generale di Torino Storia. Non tanto quella di fare una narrazione storica tradizionale, ricominciare a raccontare la storia di Cavour Garibaldi. Quella sì, ma cerchiamo di fare della cronaca legata ai luoghi, presenti. Ecco perché noi diciamo che facciamo una rivista di storia che però è una rivista di attualità. Se questa idea piace, noi andiamo avanti a svilupparla. Vi faccio, vi do qualche anticipazione del numero di dicembre per darvi documentazione di questo e per farvi capire meglio di cosa... Nel numero di dicembre io pubblichiamo diverse immagini che aiutano a capire il senso di quel che sto dicendo. Questa foto, non so se voi la riconoscete, questo è il parcheggio sotterraneo di Via Roma. Però vedete che è allestito a centro fiere. Il parcheggio sotterraneo di Via Roma negli anni 30 fino alla metà degli anni 40 era un centro fiere utilizzato per fiere. Fiera della meccanica, fiera campionaria. Sul numero di dicembre noi pubblichiamo queste foto, mai pubblicate prima d'ora, che fanno vedere quello che oggi noi vediamo così lo vediamo così. Quando era allestito c'era un pavè, c'erano gli addobbi, c'era tutto. Io vi faccio vedere qualche anticipazione. Vedete, questi sono i gerarchi fascisti che inaugurano la fiera, mi sembra, del 1936. Questo è il cardinale Fossati con i suoi collaboratori che visita gli stand. Questo è l'ingresso, vedete, sesta mostra della meccanica. Questo lo riconoscerete, è l'ingresso del parcheggio dell'Automobile Club da piazza CLN. Adesso quando si passa si vede scritto Automobile Club. All'epoca c'era scritto centro fiere e il nome della fiera. Avremo un servizio su questo in dicembre. Avremo le immagini di queste gallerie che ricordano, sono le gallerie della Cittadella, le gallerie di Pietromica, ma questa nessuno di noi l'ha mai vista, perché nessuno di noi l'ha mai visitata. È sotto Corso Bolzano, esattamente fra la Questura e la stazione di Porta Susa. Ci passiamo sopra con le macchine. Nessuno la visita perché non ha accesso. C'è un tombino, entrano gli archeologi, non entra il pubblico, ma la galleria c'è, è vuota e noi la raccontiamo. Questa è una gondola che balnea, che naviga al Valentino. Negli anni 20 del Novecento, il Valentino, fra Torino Esposizioni e il castello di architettura, era dotato di un grosso lago che vedete adesso nell'altra direzione, cioè visto dal castello di Valentino a guardare verso sud. A destra riconoscete la torretta, credo sia, dell'università. Sulla destra c'è Corso Massimo d'Azzeglio. Questo è il lago del Valentino che a cavallo fra Ottocento e primi Novecento decorava il parco. Di inverno ci pattinavano, d'estate balneavano e navigavano. Anche queste foto sono sulla rivista. sempre corredate da un testo che racconta. L'idea è che adesso guarderemo con occhi diversi il Valentino. Dove vediamo la bolla del tennis, sappiamo che lì c'era un lago. Ed era fatto così. Sono tutte foto di dicembre. Questa è via Garibaldi negli anni 60. Questo è uno degli otto affreschi che decorano la Cappella dei Mercanti in via Garibaldi e sono dedicati al Re Maggi. È un ciclo integrale, prezioso, tutto dedicato ai Maggi di cui non tutti abbiamo notizia. che è il nostro modo di celebrare il Natale sul numero di dicembre ed è un modo per rendere noto un ciclo pittorico poco noto. Abbiamo un servizio su questo. Questa è la mano di Gipo Farassino. A due anni dalla morte la pubblichiamo. Sono foto di Sergio Solavaggione decorate da un articolo specifico di ricordo di Farassino. Questa, non so se qualcuno la riconosce, è l'interno della Abbadia di Stura. Nessuno la può riconoscere perché non si entra. È entrato il nostro fotografo. L'Abbadia di Stura è un'abbazia medievale con un campanile gemello rispetto al campanile della Consolata. campanile medievale. Ce n'è un terzo cugino che è il campanile di Pulcherada a San Mauro. Questa abazia è importantissima. È completamente abbandonata. È acquistata da un'associazione oggi di imprese ma anche di terzo settore che sta cercando di recuperarla. Non ha, credo, attualmente i mezzi per farlo ma ha in animo di farlo. Noi pubblichiamo un reportage di foto interne all'abazia che ha questo sagrato che ha il campanile che vedete. Vedete come ricordo il campanile della Consolata. Di fianco alla sede dell'Aurora. L'Aurora ha la sede, varie imprese hanno sede in questo complesso di fabbricati rustici che vedete, che sono afferenti al vecchio chiostro e che sono patrimonio di questo complesso abbaziale antico molto importante. Questa è una grotta artificiale si chiama la Grotta Gino e a Moncalieri è stata chiusa per diversi anni riapre in questi giorni. La Grotta Gino è una grotta storica perché è stata scavata a mano a metà Ottocento da un signore si chiamava Gino che l'ha scavata per pubblicizzare il suo ristorante. A fianco dell'ospedale di Moncalieri c'è l'ingresso di questa grotta che è una grotta articolata con cunicoli e anfratti un canale navigabile di 50 metri e un sistema di statue scolpite dal signor Gino per celebrare i personaggi del Risorgimento. Eccoli qua. Vedete, girando la grotta si vede Vittorio Emanuele II varie personalità. È una cosa particolare. Noi titoliamo un articolo su questo numero di dicembre lo titoliamo avrebbe 130 anni e la funicolare che portava al Monte dei Capuccini avrebbe 130 anni quest'anno non li ha perché fu smantellata collegava l'attuale corso Moncalieri con il monte ed era utilizzata per sciare e per salire al monte. Vedete, questo è il confronto che noi proponiamo sulla rivista fra il tracciato della funicolare vista da alto e quello che adesso è un gerbido c'è bosco non c'è più nulla se non qualche resto della stazione d'arrivo noi giochiamo molto su questo confronto fra le immagini di ieri e le immagini di oggi cercando di riprenderla con la stessa angolazione questo è lo sci al Monte dei Capuccini si svolse anche una gara di slalom un anno e questa è la copertina di questo numero di dicembre che ha tutto questo ed altro ecco io vi ho fatto vedere le immagini e vado a concludere per darvi un'idea plastica del senso del nostro lavoro che intende proseguire così cioè guardarci attorno pensare a quello che accade oggi e domandarci che cosa è stato ieri in modo da potersi muovere oggi con la consapevolezza del passato di quello che ci ha preceduto l'ultimo elemento che desidero mettere in evidenza è che c'è stata una bella risposta di pubblico e c'è stata una bellissima risposta da parte di chi scrive per questa rivista in molti casi collaboratori volontari in altri no sono professionisti che lo fanno per mestiere sono tantissimi e hanno immediatamente aderito all'idea di far nascere questa cosa citarli tutti è impossibile io ne cito quattro che sono quelli che hanno prima che si partisse detto che loro ci stavano che si poteva fare che si sarebbero impegnati sono Pierluigi Bassignana tutti qua in sala Massimo Centini Maurizio Ternavasio Maurizio Lupo e Sergio Solavagione fotografo loro hanno detto di sì e allora siamo partiti la rete poi si è molto ampliata ha aggregato giornalisti di varie testate scrittori autori che voi trovate nelle dico nelle librerie tutti insieme si rappresentano per la prima volta in uno strumento comune una cosa insolita io per affezione mia cito i colleghi della Voce del Popolo che è il giornale dove io lavoro e me lo concedo perché è il mio giornale sono qua anche in sala c'è il direttore emerito Marco Bonatti Marino Lomunno Marco Fracon Paolo Patrito Andrea Vico e tre fotografi che il giornale utilizza ma che prestano il loro lavoro anche per Torino Storia sono Massimo Masone Renzo Bussio e Daniele Vico poi ci sono tantissimi altri collaboratori li scoprirete se avete l'interesse di prendere in mano la rivista un ringraziamento finale va a chi gestisce il sito internet molto importante che ha portato il materiale cartaceo sulla rete e molto sui social ed è Luca Indemini un giornalista della stampa e per la parte tecnica Fabio Regina infine c'è quello che voi avete visto fin dall'inizio ed è l'oggetto l'oggetto è una rivista che cerca di essere prima che interessante bella in modo da essere appetibile in edicola ed essere richiesta e convincere prima di potersi far leggere la rivista è bella perché il pilastro uno dei due pilastri di questo lavoro è lo studio grafico che se ne occupa lo studio partners di Marco Battaglia è uno degli studi noti che voi probabilmente conoscete che gestisce il prodotto come voi lo vedete lo fa diventare come voi lo vedete una pubblicazione che noi crediamo molto bella io ringrazio per questo lavoro Battaglia Cinzia Pedace che cura il progetto grafico l'impaginazione Alessandra Ferri e Chiara Taccardi che collaborano a questo è Patrizia Cutrano che è la macchina organizzativa di questo pilastro che ci consente di uscire come voi vedete vi ringrazio molto della vostra presenza giro il microfono al sindaco gli giro la frase che noi abbiamo messo come distico della nostra rivista sopra ogni indice troverete sempre la stessa frase una frase di George Orwell presa dal 1984 dice chi controlla il passato controlla il futuro chi controlla il presente controlla il passato questa è l'ipotesi sulla quale noi lavoriamo grazie va bene grazie dell'invito grazie al direttore della biblioteca Bartoletti questa è una bellissima sala sono io che ho consigliato a ricca donna di presentare qua la rivista perché mi pare un luogo molto molto opportuno e molto opportuno come ha detto il direttore Bartoletti che sia un luogo non solo per l'attività della biblioteca ma aperto alla città e tra l'altro anche ubicato diciamo dal punto di vista proprio logistico della location in un luogo facilmente accessibile da parte di tutti grazie a ricca donna e a tutti coloro che si sono dedicati a questa impresa perché io penso che ci fosse bisogno di uno strumento di questo genere e confesso una cosa che non si sa una piccola confidenza personale io quando ero studi quando diciamo arrivi verso i 16-17 anni decidi cosa vuoi fare nella vita quando sei bambino vuoi fare prima il pompiere poi il tranviere eccetera però crescendo nell'età sempre calciatore eccetera e quando arrivi a una certa età pensi a quello che vuoi fare davvero nella vita e volevo fare lo storico il mio percorso era quello di fare lo storico poi l'improvvisa morte di mio padre cambiò tutti i programmi i progetti di vita della nostra famiglia e io non feci questa scelta ma quella passione mi è rimasta dentro quindi tutto ciò che attiene alla storia e alla ricostruzione storica mi attrae quindi io sono qui non solo perché sono il sindaco sono stato invitato per questo e ringrazio ma perché penso che appunto anche per un'affezione personale perché parto da una considerazione è stata citata una frase di Orwell io citerò una frase di un grande storico che è Le Goff il quale diceva che non trasmettere memoria è rendere orfano una generazione e c'è una grande verità in queste parole semplici cioè ciascuno di noi vive ovviamente la propria vita nella quotidianità nel tempo della sua esistenza però ciascuno di noi ha alle spalle una storia e anzi ciascuno di noi è figlio di una storia lo è dal punto di vista antropologico lo è dal punto di vista culturale lo è dal punto di vista sociale e avere quindi consapevolezza e coscienza di ciò che sta prima di te e che ha determinato anche il tuo essere e la tua vita e determina le tue scelte non è banale per la consapevolezza di chi sei e della tua identità e quindi trasmettere memoria e via via che le generazioni si succedono essere capaci di dare continuità a questa conoscenza a questa consapevolezza è molto importante soprattutto per due ragioni la prima è che mano a mano che gli eventi fatti le persone si allontanano dalla nostra vita quotidiana il rischio è che di questi eventi di questi fatti di queste persone si sfumino i contorni se ne perda la percezione esatta e mano a mano che si allontana nel tempo l'oblio faccia premio sul ricordo sulla memoria come diceva il Petrarca la morte sulla vita il tempo sulla morte la fama sul tempo l'oblio sulla fama mano a mano che ti allontani noi quest'anno abbiamo celebrato il settantesimo della liberazione tra l'altro la rivista dedica delle pagine il settantesimo della liberazione che abbiamo celebrato quest'anno ha avuto una diciamo partecipazione dei cittadini assai minore di quanto fu la celebrazione del sessantesimo del cinquantesimo del quarantesimo perché praticamente quasi più nessuno di quelli che ha vissuto quella stagione è vivo se non un numero ridottissimo perché sono passati 70 dal 45 quelli che hanno fatto il partigiano avevano almeno come minimo 17-18 anni quindi ne devono avere almeno 87-90 e quindi quelli vivi sono pochissimi e anche i figli che pure sarebbero testimoni perché i padri hanno raccontato molti nel corso del tempo se ne sono andati quindi pensiamo al centenario della prima guerra mondiale è un grande evento ma è così lontano un secolo che al di là di una reminiscenza storica nessuno di noi lo vive come qualche cosa che appartiene alla sua vita quindi mano a mano che il tempo passa e la tua quotidianità si allontana dagli eventi ha fatto il rischio che su quegli eventi appunto si posi la coltre dell'oblio della dimenticanza e quindi la trasmissione di memoria è l'antidoto a questo trasmettere memoria significa cercare di superare il rischio del tempo del decorrere del tempo e quindi fare memoria questa è la ragione per cui per esempio il Consiglio Comunale di Torino ha una continua e costante attività di iniziative che ricordano personalità personaggi eventi e fatti perché lo si fa lo si fa per trasmettere appunto per contribuire alla trasmissione di memoria e questo è tanto più vero oggi nella società di internet che ci mette di fronte a una gigantesca opportunità tu clicchi un tasto e hai lo scibile umano davanti a te sul tuo schermo io appartengo a una famiglia qui tantissimi in cui si mettevano da parte i soldi per raccogliere per comprare l'enciclopedia al figlio giusto adesso più nessuna famiglia ha bisogno di farlo perché fai clic gratis e c'hai tutto quello che devi sapere un enorme progresso da ogni punto di vista c'hai una disponibilità di conoscenze infinita poi non sempre trattata bene ma questo è un altro ragionamento però un'enorme quantità di conoscenze però attenzione che l'enorme quantità di conoscenze di cui sei destinatario e in qualche modo ti bombardano è talmente grande che è intrinseco in questa enorme disponibilità di conoscenze in tempo reale ancora una volta è il rischio che ciò che sta dietro ciò che sta lontano ciò che sta nel passato si offuschi quindi fare memoria e quindi fare storia raccontarla ricostruirla rivisitarla è assolutamente essenziale questo vale per una città come Torino per esempio io ho un pallino e il pallino è questo tutti noi conosciamo benissimo la storia di Torino dal 1573 ad oggi cioè da quando Emanuele Filiberto capo dell'armata imperiale vince la battaglia di San Quintino tra Carlo V e Francesco I riceve in dono il Ducato di Torino lo unisce al Ducato di Savoia e trasferisce la capitale da Chambery a Torino da quel momento comincia la grande storia di Torino che arriva fino a noi accade che qualche anno dopo il figlio di Emanuele Filiberto decida di fare una città del tutto nuova chiama degli architetti parigini da qui una pianta urbanistica di Torino che è francese più che italiana dal punto di vista urbanistico rade al suolo la città tanto è vero che noi abbiamo tre edifici medievali in Torino tre non quattro tre rade e fa ricostruire la città barocca seicentesca e via da questo cosa deriva deriva che non vedendo noi nulla di medievale nella coscienza dei torinesi il medioevo non c'è no? noi abbiamo consapevolezza che c'è una città c'è stata una storia romana e non caso perché vediamo tutti i giorni le porte palatine abbiamo piena consapevolezza della storia di Torino dal 1573 ad oggi quello che c'è prima lo sai solo se vai a leggere se leggi la storia del Piemonte di Barbero se leggi la storia di Torino di Oliva se leggi la storia della storia certo c'è tutta la ricostruzione ci sono anche delle cose curiose Torino è la prima città nel tempo di medioevo che ha un sindaco eletto non dal popolo dal censo ma eletto prima di tutti gli altri però questa storia medievale non c'è nel vissuto della città allora il pallino che io ho è che bisognerebbe fare ricostruire questo per esempio fare una grande mostra da mettere a disposizione dei cittadini torinesi di documenti di cose eccetera eccetera che dia consapevolezza del fatto che c'è stata una storia medievale Torino Storia è uno strumento che lo può fare Torino Storia dedica a questo numero che state per vedere quello delle come si chiama delle no delle gallerie delle esposizioni su questo numero dedica alle esposizioni che ci sono state a Torino traendo spunto dall'Expo di Milano tutti noi sappiamo che c'è stata l'esposizione nel 1911 perché? perché c'è un luogo fisico che ce lo ricorda il Valentino che peraltro aveva il lago e nessuno lo sapeva ma c'è invece una cosa che c'è ancora lì ed è il borgo medievale pochissimi torinesi sanno che nel 1928 nel decennale della fine della prima guerra mondiale della vittoria fu fatta a Torino una grande esposizione di cui c'è un solo segno ancora che è il faro della Maddalena ma nel comune nell'archivio storico della città di Torino ci sono tutti le fotografie i disegni i plastici eccetera dell'esposizione che fu fatta nella città nella città sul ponte di piazza Vittorio che dà la Gran Madre lì c'era un grande padiglione e via di altre cose più nessuno ha memoria di questo perché il 28 è appunto quasi 90 anni fa figuriamoci allora la ricostruzione della storia della città così come della storia dell'Italia come della storia del mondo è importantissima perché consente di recuperare memoria e naturalmente il recupero della memoria non è soltanto un elemento di ricostruzione storica perché a partire da lì tu puoi costruire tutto una riflessione anche sull'oggi no? anche sull'oggi e la ricostruzione della storia ti consente anche di graduare e gestire meglio le scelte dell'oggi per esempio appunto la ricostruzione di tutto ciò che sta sottoterra adesso abbiamo visto le gallerie di Pastis e le gallerie di Pietromicca no? che adesso recupereremo c'è un progetto per il recupero saranno visibili eccetera no? ma sotto terra c'è molto altro sotto piazza Statuto c'è un sacco di roba allora ricostruire ti consente anche poi di avere maggiore consapevolezza quando fai le scelte di oggi di assetto urbanistico no? se devi scavare o non scavare banale cosa devi farlo non devi farlo un parcheggio non sai cosa trovi cosa trovi come recuperi come valorizzi come garantisci cioè c'è anche un'attualità della ricostruzione storica che perché la ricostruzione storica e la conoscenza ti consente anche di gestire con maggiore come dire cognizione di causa l'oggi e le scelte che devi fare quindi io penso che sia sia molto importante avere uno strumento come la rivista è uno strumento che può diventare anche strumento attivo e chiudo facendo una proposta allora voi avete visto questo splendido manufatto che è la abbazia di di Stura io sono andato a vederla più volte quello è bellissimo va recuperato costa un pozzo di soldi recuperarlo perché lo stato di degrado è totale perché è lì imbandonato da una vita e quindi si è data di capire ma però è un bene allora noi abbiamo uno strumento ovviamente bisognerà trovare risorse le risorse si possono trovare in tanti modi un modo non l'unico sottolineo non l'unico ma un modo per recuperare e anche utilizzare mobilitare la società civile e sollecitarla a contribuire e abbiamo oggi uno strumento lo strumento è l'Arbonus come sapete l'Arbonus è uno strumento di defiscalizzazione che consente per 100 euro che tu diciamo devolvi al recupero del patrimonio artistico architettonico del paese di recuperarne 65 quindi con un contributo che è contenuto 200 euro ma ne recupero 65 in termini fiscali di detraggo dalla denuncia dei reti allora Torino Storia vuole concorrere a questa operazione utilizzando la rivista per lanciare una grande campagna di raccolta di risorse per recuperare questa abbazia ripeto non che da sole bastino e ci va un monte di milioni significativo però ha un valore che al di là di quanto si raccoglie quella cosa lì la possiamo recuperare anche con un'operazione di mecenatismo civico che fa leva sulla partecipazione dei cittadini grande o piccola che sia e allora vedete come la rivista oltre che essere una rivista che ricostruisce il passato può diventare anche uno strumento per agire nel presente e quindi grazie per chi ha avuto questa idea grazie al sindaco Piero Fassino grazie per l'apprezzamento del prodotto e per gli spunti che ha dato e che ha lanciato noi proseguiamo questa presentazione con due interventi qualificati il primo dei quali è quello di Paolo Verri direttore della fondazione Matera 2019 città capitale europea della cultura ma soprattutto almeno per la parte che interessa a noi in relazione a Torino già direttore di Torino Internazionale del Salone del Libro e di Italia 150 cioè i festeggiamenti per il centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia Paolo Verri Buon pomeriggio a tutti grazie molto per l'invito grazie per questo splendido posto che frequentando poco la città se non per motivi familiari nel weekend non ho occasione di vederlo anche se almeno per due anni la Biblioteca Nazionale è stata la mia casa nel primo o secondo anno dell'università quando ho dovuto fare gli esami di latino e di greco alla cattolica passavo tutto il mio tempo come raccontavo al direttore scendendo le scale soprattutto a usare le belle lettere perché sono una collezione straordinaria che normalmente uno studente non si può permettere e che invece poter studiare contemporaneamente con il testo a fronte delle migliori traduzioni classiche del mondo consente di imparare anche il francese non soltanto il latino e il greco io vorrei ringraziare molto Alberto Riccadonna per questa iniziativa ringraziare lui il coraggio di mettere in piedi una casa editrice ringraziare suo fratello Guido che lavora diciamo così sul tema dei libri ringraziare il vice direttore che lui si è dimenticato di ringraziare quindi fategli un applauso perché la macchina poi non va avanti da sola e dire che dato che il mio primo lavoro è stato quello di fare l'editore provo soprattutto un po' di invidia un po' di sana invidia di bella invidia cioè in un'epoca come già citava il sindaco in cui sembra che tutto debba essere digitale invece aver la voglia di lavorare sul cartaceo e di far rilasciare delle cose che tutte le sere ti trovi lì di fianco al comodino o quella mattina prendi in mano per vedere delle belle foto ben stampate ben impaginate per chi fa l'editore per chi come me si è occupato tanti anni come direttore del solito del libro ma anche come direttore della comunicazione dell'associazione interna di editori con cui abbiamo inventato per esempio uno strumento che era per un pugno di libri proprio per diffondere la lettura ecco il fatto di diffondere la lettura e la curiosità è per me una cosa fondamentale dal mio punto di vista vorrei dire che ci sono quattro elementi che mi incuriosiscono molto dal prendere in mano questo strumento un primo è del tutto personale individuale è il fatto di scoprire delle cose che sono accadute e che avendo anch'io ormai superato la linea d'ombra e avvicinandomi i 50 anni fanno sì di capire che c'è la generazione la più numerosa che abbia abitato la città quella figlia dell'immigrazione di diverso tipo l'immigrazione dal sud l'immigrazione dal veneto l'immigrazione da tante parti del resto della nazione dell'Europa ha generato tantissimi saperi e tantissime competenze che però per certi versi hanno anche oscurato tutta una serie di cose che erano accadute da molto poco io ho avuto la futura di avere un insegnante di italiano alle medie in quella che era la scuola Balbo che non esiste più era una media ginnasiale e di avere la fortuna di studiare sui libri di Lidia De Federicis dentro quei libri si raccontava la storia recente cioè noi che avevamo 12-13 anni mia mamma aveva un negozio in via Garibaldi dalla quale se n'è andata per colpa dice lei della pedonalizzazione cioè è stata così poco intelligente da capire che la pedonalizzazione era un'opportunità perché come sa bene il sindaco i cittadini non sono studiosi di città cioè non sanno che le pedonalizzazioni invece come io mi ricordo quando l'abbiamo fatta appunto delle lotte polemiche terribili il 4 il 6 dove metto le fermate la foto che abbiamo visto non scende più nessuno non si fermano più la macchina davanti al negozio a catapignenti cioè nel senso è una cosa più o meno così e quindi per me la cosa straordinaria era nel 78 avevo 11 anni studiare delle cose che riguardavano gli anni 50 e 60 come già storicizzate questa cosa oggi non esiste più cioè festeggeremo spero i 10 anni delle olimpiade ma non è storicizzata e non sono storicizzate alla fine degli anni 90 che ormai sono un patrimonio storico straordinario dove sono successe delle cose importantissime per il sistema sociale per il sistema urbano per il sistema politico pensate cosa vuol dire nel 2018 saranno 25 anni nella legge dell'elezione diretta del sindaco come è cambiata la nostra città prima era instabilità poi è stata stabilità di quale tipo non è che adesso ci interessa però è una macchina potentissima del cambiamento poter storicizzare non soltanto il passato remoto ma il passato prossimo è una straordinaria opportunità per capire chi siamo che cosa vogliamo l'altro elemento per me memorabile è la mostra che facciamo nel 2008 in occasione del convegno mondiale degli architetti aprendo per la prima volta le OGR che peraltro non volevano che nessuno voleva che noi aprissimo abbiamo poi fatto un po' una forzatura complice il sindaco all'epoca Sergio Chiamparino e l'abbiamo aperte contro la volontà di tutti e lì c'era un sistema Alberto di esposizione credo che Franco Cavarezza e anche Pierluigi Bastigliani in prima fila che saluto caramente se lo ricordino che aveva destato un'enorme curiosità del pubblico cioè tu entravi nella mostra avevi Torino com'era passavi una pila e diventava Torino com'è era un meccanismo bellissimo di racconto della città dove si vedevano tante situazioni una delle situazioni più emblematiche era che sotto non casa fisica ma casa di lavoro del sindaco che poi è la casa sua perché ci passa 20 ore al giorno lì sotto c'era il parcheggio più ambito della città c'erano queste foto pazzesche con il fatto che piazza palazzo di città era soltanto piena di automobili e tu con una pila potevi vedere com'era diventata ed era una cosa molto recente nel senso che noi ci dimentichiamo prestissimo dei cambiamenti delle città e quindi impariamo molto poco da questi cambiamenti impariamo poco come cittadini impariamo poco come imprese impariamo poco come istituzioni certe volte anzi vogliamo cambiare molto rapidamente delle cose invece che necessitano magari dei tempi un po' più lunghi quindi il primo dato della rivista è un dato diciamo così di capacità di farci riflettere su che cosa siamo nel numero che va in edicola poi ci sono tre cose che mi incuriosiscono molto io ho avuto la fortuna di abitare nella stessa casa di Gipo in via Fiocchetto lui al terzo piano io al quinto piano conoscevo purtroppo bene Caterina e sono ancora amico dell'altra figlia ma è bello che nello stesso numero c'è anche l'origine della targa di via Fiocchetto che non è un fiocchetto ma era un signore un protomenico che studiava come curare le pestilenze aveva avuto un ruolo fondamentale nella Torino 6-700 proprio per curare tutto quello che erano le malattie dal che una scuola medica straordinaria perché dai bisogni delle città nascono le competenze e le professioni altra cosa che va opportunamente studiata diciamo così e messa in gioco dell'aspetto editoriale ho già detto ma vorrei dire appunto che non è facile trovare in un'area urbana un prodotto di una qualità editoriale di questo genere cioè una qualità di questo genere si trova su dimensioni nazionali internazionali fare una sfida sulla qualità del prodotto oggi di questo genere è unica non voglio fare troppi complimenti ma vanno veramente complimenti di cuore al grafico ma soprattutto all'idea dell'investimento il sindaco poi l'ha rilanciata benissimo con un'abilità politica che la contraddistingue vi ha chiesto mille euro a testa perché mille euro per mille fa un milione lui vuole presentarsi alla badia di Stura con un milione di euro e dire a Franceschini che inviterà appositamente adesso a mettere gli altri venti e vabbè però d'altra parte se mille cittadini possono mettere un milione di euro vi ricorda che ne pagherete soltanto 350 di quel mille euro quindi fateci i conti per il prossimo anno può anche valere su un bienio insomma la badia è stata lì per tanto però adesso al di là delle battute confermo essendo amico di Cesare Verona di avervi visitato molto spesso perché Cesare è lì la sua azienda di famiglia che è l'Aurora che è un posto veramente straordinario ed è una porta importante della città una porta significativa della città ancora due passaggi uno sociologico veramente credo che ci sia un bisogno delle persone che hanno fra i 40 e i 60 anni il bisogno di riflettere su cosa sia stata la loro generazione cioè di fare un po' i conti di che cosa è accaduto è stato molto facile per le generazioni più datate è meno facile oggi fare i conti con la propria contemporaneità con la propria storicizzazione ribadisco la generazione degli anni 50 la generazione degli anni 40 è già stata storicizzata fortemente le generazioni nate negli anni 60 e negli anni 70 no dov'è Maurizio Ternavasio che è stato citato che non vedo c'è è andato via vabbè comunque Maurizio col quale ho avuto nonostante anche lui sia purtroppo come sindaco giuventini nessuno è perfetto né il sindaco né Ternavasio però tanto la foto sul derby del 16 dicembre ce l'hanno già fatta quindi si capisce da che parte sto io la vicenda è che Maurizio è veramente una delle persone che a me ha spiegato di più che cosa volevano dire gli anni 70 80 e di che bisogno c'è di raccontarlo io sono nato in corso regina angolo via Livorno attraversavo tutti i giorni per andare alla Balbo via Industria dove c'erano due covid e le BR e non possiamo apprezzare in maniera straordinaria come il sindaco la racconta lo sviluppo della Torino della cultura dopo il 93 se ci dimentichiamo che in piazza sul ferino ci si minava un weekend sì e l'altro anche per gli scontri fra le fazioni opposte di demoproletari e fascisti io mi ricordo perfettamente in piazza statuto i tank che dovevano andare per fermare una manifestazione di almirante le cose che stavano accadendo e non è una vicenda politica è una vicenda storica quella città oscurava la città precedente ho avuto una straordinaria occasione per dimostrare l'affetto per questa per questa città è in sala mio suocero che se lo ricorda bene è stato per tanti anni responsabile dell'ufficio stampa dell'Unione Industriale e lo voglio ringraziare per tutto quel che ha fatto per la città e per l'Unione e anche per noi come famiglia quando ci siamo sposati sua figlia e io abbiamo regalato sono passati 20 anni abbiamo festeggiato 20 anni di matrimonio un libriccino che si intitola Guida Sentimentale ti manca questo? lo sai che cos'è Guida Sentimentale? vai preparato Guida Sentimentale è un libro che Mario Gromo vice direttore della stampa scrive nel 32 per raccontare la città degli anni 20 ecco quella città è la città molto simile alla città di oggi una città plurale una città con tanti tipi di impresa con tanti tipi di cultura con tanti luoghi dove andare e dove stare che in fondo la cultura industriale fra il 53 e il 73 cioè nell'anno del boom fino a 1.373.000 abitanti la vetta raggiunta del 73 è mai più superata la città poi c'è stato soltanto decremento demografico avevano in qualche misura cancellato cioè la Torino degli anni 20 e 30 era la Torino che è la radice straordinaria della Torino dell'inizio del 21esimo secolo quella città è una città di riferimento di riferimento di innovazione culturale di riferimento di innovazione imprenditoriale di riferimento di innovazione di politiche di modalità sociali storicizzare questa cosa e quindi non andare troppo indietro con la storia ma lavorare sulla storia contemporanea come un'opportunità per capire che cosa vogliamo noi per le generazioni avvenire è veramente una sfida che questa rivista mette in gioco perché ogni pagina ti richiama le tue responsabilità rispetto a un pezzo di futuro e con questo chiudo arrivando all'aspetto del presente il fatto da essere di 4 anni praticamente lontano lavorativamente da questa città mi ha messo in contatto con una realtà veramente totalmente diversa con Piero ne abbiamo parlato più volte cioè una realtà con una città piccola come Matera 63.000 abitanti ma una città enorme come superficie sulla superficie di Matera possono starci contemporaneamente la città di Torino e la città di Milano i comuni non le conurbazioni ma fisicamente essendo la città la diciassettesima area urbana più estesa d'Italia ce ne sono altre che hanno la stessa sorpresa anche Ravenna e anche Venezia di città di pochi abitanti hanno queste superfici straordinariamente estese Piero come presidente dell'Anci conosce benissimo queste tematiche perché sono problematicissime per i sindaci vuol dire pochissime tasse e tantissimo territorio da presidiare quei territori che costituiscono il 70% dell'Europa il 70% delle città europee hanno meno di 100.000 abitanti quindi vuol dire che di 400 milioni di abitanti circa possibili con i prossimi ingressi delle prossime due nazioni da qui al 2018 450 milioni di abitanti vuol dire che circa 300 milioni di abitanti abitano in città con meno di 100.000 abitanti quindi con dei tessuti sociali molto compatti città di questo genere e in particolare una città come Matera che è considerata la terza città più antica al mondo insieme ad Aleppo e mi dimentico la terza ma ve lo dirò fra un attimo no no è sempre una città dell'area mesopotamica ci fanno pensare a un concetto importante che è un concetto a me in questo momento molto caro che è il concetto del futuro remoto cioè che guardando molto indietro si guarda molto avanti una città come Matera in questo momento noi la stiamo facendo studiare dalla NASA come prototipo dei modelli abitativi su Marte c'è un architetto della NASA che sta studiando attraverso il centro di geodesia spaziale che c'è a Matera come abitare in dei luoghi dove puoi soltanto scavare dove puoi soltanto vivere nella roccia un grande architetto materano che vive a Firenze e che lavora per i più grandi proprietari terrieri al mondo si chiama Pietro Laureano ha pubblicato per Bollati Boringhieri un libro molto importante che è sentito la piramide rovesciata studia proprio i modelli per creare delle oasi e creare dell'acqua dalla roccia con un'abilità straordinaria studiare le città nel loro passato consente di guardare lontano di creare dei modelli per l'abitare il mio auspicio e Piero sa che su questo ci tengo particolarmente è che la nostra città non soltanto sia abile e questo è il compito per virgolette purtroppo che un sindaco ha quotidianamente di gestire il presente il presente prossimo l'emergenza eccetera ma di guardare al 2040 al 2050 non soltanto per gli aspetti diciamo così della bellezza ma io credo rispetto a Torino per la capacità di Torino di esprimere utopie cioè di capacità di costruire dei nuovi modelli sociali è molto importante quel che il sindaco ha ricordato cioè nel fatto che nel medioevo addirittura un sindaco venisse eletto per censo la nostra città ha una responsabilità in Italia e in Europa cioè di costruire nuovi modelli politico-sociali se lo può permettere fa parte del suo DNA ed è una scommessa che secondo me noi possiamo vincere grazie a tante persone come Alberto e tutto il suo team e tutti voi che credono nelle radici per generare però delle fronde molto verdi di un futuro che è di tutti grazie grazie a Paolo Verri che ha direi splendidamente inquadrato la rivista per tornare ai suoi studi di latino e greco dico che questa rivista e questo suo riferimento al profondamente passato che insegna al profondamente futuro un po' l'olim latino sia un tempo sia nel passato ma anche sia nel futuro quindi molto interessante grazie dell'intervento prima di dare la parola al generale Cravarezza io direi intanto al sindaco ringraziandolo ancora per l'intervento che ci ha lanciato come dicevo prima uno spunto molto interessante sulla sua abazia e quindi se lo ritiene opportuno ci ricontattiamo e ci torniamo per concordare le modalità vi segnalo che nel cammino di Torino Storia questo è un mese importante perché ovviamente è il mese di Natale è il mese in cui noi puntiamo anche molto sul fatto che Torino Storia si diffonda attraverso la modalità del regalo pensiamo che sia un pensiero importante anche interessante e gradito poterlo donare a qualcuno a qualcuno dei vostri amici familiari perché è un prodotto come abbiamo sottolineato che ci sembra gradevole e che può interessare il pubblico e poi ovviamente un appello soprattutto a chi ha come dire incarichi o comunque imprese ha anche al sostegno perché comunque è un progetto che per essere così ha dei costi e ha una sua sostenibilità economica da raggiungere e quindi ovviamente c'è una ricerca di inserzionisti qualificati e possibilmente anche del territorio che siano in continuità e in linea con la linea editoriale della rivista detto questo io passo la parola al generale Franco Cravarezza con piacere presidente dell'associazione Amici Biblioteca Nazionale Universitaria grazie generale buonasera a tutti sono state dette tantissime cose e pertanto io cercherò adesso di chiudere con una prima battuta ma perché ci siamo persi Paolo Verri è riuscito a vendere Matera alla NASA e potevamo tenercelo qua chissà dove eravamo adesso e il secondo aspetto a nome a nome della biblioteca naturalmente e dell'associazione Amici mi fa piacere dire due parole e anche un po' oltre che come biblioteca come militare questo è stato il regalo che riceverete questa sera ma mi piace farlo vedere perché questo minatore ha la luce sulla testa perché sta cercando qualcosa adesso avete sentito un sacco di cose di cosa deve essere la rivista ma io vorrei invece parlarvi di come la dovremmo sentire noi questa rivista cioè per noi cos'è questa rivista è una ricerca questa qui deve essere una piccola luce piccola quanto volete però è importante che sia una luce che ci permette di illuminare il mondo in cui viviamo io non sono di Torino ma mi sono innamorato di Torino vorrei che ciascuno di noi non solo che uscisse da questa sala ma che leggesse questa rivista ma che vivesse in Torino che si sentisse una parte di Torino e la sentisse come propria e la volesse amare ma per amarla bisogna conoscerla per amare bisogna capire dove siamo cosa viviamo cosa rappresenta quello che viviamo tutti i giorni in giro ecco come questo ambiente che nel cuore di Torino vorremmo che entrasse nel cuore dei torinesi cioè che diventasse di ciascuno di noi come già ha detto il nostro direttore come ha voluto lasciare intendere il nostro sindaco allora così vi lancio due o tre messaggi abbiate pazienza sarò anche velocissimo però ecco questa è la nostra biblioteca storica pensate era la scuderia dei Savoia abitavano nell'altro palazzo di fronte qui avevano una scuderia una fetta di 20 metri era la scuderia per lungo la fronte abbiamo mantenuto di quella struttura solo la fronte di quella scuderia pensate oggi com'è bella ecco grazie al comune dobbiamo dire grazie al sindaco che ha voluto decorarla anche di quelle bellissime estetiche floreali che ci sono all'esterno e che cresceranno e poi avrete curiosità e questo auditorium è chiamato Vivaldi perché pensate la biblioteca ha il 92% delle composizioni originali manoscritte di Vivaldi qui vedete proprio il monogramma di Vivaldi o perlomeno mi perdoni la Porticelli se dico delle inesattezze ma non è il monogramma è un'invocazione a Maria lui usava firmare i suoi scritti ne abbiamo più di 470 all'interno della nostra e tra l'altro lì c'è una Vivaldi House che potrete poi anche visitare con sempre un manoscritto originale ma pensate non c'è solo Vivaldi una marea di cose abbiamo qua dentro che nessuno di noi conosce neanche i torinesi neanche forse il nostro sindaco anzi no io spero che lui abbia l'occasione di venire a vedere abbiamo dei libri interi dove ci sono tutti i disegni e le elucubrazioni architettoniche di Juvarra pensate è una cosa veramente unica ho avuto la fortuna mi hanno fatto vedere di vederne alcuni pezzi e ne sono rimasto impressionato vedere come schizzava delle cose meravigliose alcune realizzate altre che potrebbero esserlo beh però quest'anno compiamo i 300 anni della nascita dei quartieri militari che sono in una bella fotografia erano considerate le più belle caserme d'Europa nel 1730 circa quando uscirono nel loro splendore neanche completate da Juvarra però pensate 1716 partirono quindi 300 anni fa partiva questa bellissima parte di Torino vicino a Porta Susa era la porta proprio di Porta Susa pensate come sono oggi meravigliose tra l'altro voi vedete adesso circondate dai lavori perché la compagnia di San Paolo li sta trasformando nel polo del novecento quindi dove accoglieranno la cultura quindi da una parte la resistenza dall'altra la cultura poi ecco solo il comune di Torino andate e guardate mettetevi dalla prospettiva da cui lo vede il sindaco tutte le volte quando esce i due portici laterali sono la storia di Torino che la viviamo tutti i giorni magari non ce ne accorgiamo neanche ci sono tutte le battaglie dell'indipendenza sono raccontati ci sono tutti i caduti dell'indipendenza e ci sono quelli della resistenza perché c'è la medaglia d'oro proprio la motivazione della medaglia d'oro della città di Torino poi abbiamo un altro pezzo da salvaguardare so che il signor sindaco ci sta lavorando sopra per trovare una collocazione ideale e che ne dia di nuovo valore importante il museo d'artilleria è nato nel 1700 era da altre parti adesso è in una posizione in un chiamiamo così magazzino anche se visitabile però pensate all'interno c'è un'ascia bipenne che ha due lame del 3000 avanti Cristo abbiamo un elmo epulo che vuol dire corinzio poi comunque dei greci che è del quarto secolo avanti Cristo e poi ci sono tutte le armi pensate adesso se riesce ad aprirsi ecco all'interno del magazzino voi vedete quello cerchiato si vede poco perché ho dovuto ingrandire moltissimo la figura pensate ci sono ancora il Lones John degli anni 70 della guerra fredda che un tempo portava all'interno una carica nucleare è un missile nucleare all'inizio ce ne sono due di questi uno un po' più moderno e uno un po' più moderno ancora con loro quindi abbiamo all'interno da vedere delle cose straordinarie più di 11.000 cimeli che purtroppo in questo momento giacciono un po' nascosti alla nostra possibilità di vederli io poi sono innamorato di questo alfiere che c'è al centro in piazza Castello perché nel suo biancore rappresenta tutti ha da una parte la bandiera dall'altra la spada per difenderla però conoscere la sua storia è importantissimo e pensate solo questo piccolo bronzo che c'è al centro 50 per 50 guardate che forza espressiva che ha c'è Vittorio Emanuele II che sta la seconda guerra di dipendenza quando ha salvato la Lombardia perché sapete l'alfiere ce l'hanno regalato quelli della Lombardia per ringraziarci perché ci chiamavano i torinesi e i piemontesi ad andarli a liberare e dietro c'è la marmora Cavarezza si fermi ha una storia leggermente diversa lo donarono i milanesi come risarcimento del fatto che nella prima guerra di indipendenza Carlo Alberto fu chiamato dai patrioti durante le cinque giornate e quando Carlo Alberto arrivò a Milano i mazziniani che erano repubblicani e non monarchici spararono su Carlo Alberto così come hanno sparato su Radetzky per risarcirci dopo la seconda guerra mondiale e la seconda guerra indipendenza arrivò questo allora io non voglio mai correggere il sindaco ma questo nel 59 ci fu la seconda batteria venne dato nel 57 due anni prima per risarcimento ecco io non lo sapevo in questa storia però venne nascosto perché si aveva paura di creare conflitto tra i lombardi e i piemontesi quindi venne donato da pochi perché se no gli autori si avrebbe potuto poi però ecco già il fatto che ci siano due visioni diverse della cosa è importante che quel lume faccia memoria e che ci aiuti a scavare bene quindi alla prossima dobbiamo saperla esattamente la storia di questo per esempio a Torino è nata la prima macchina perché ci chiamiamo città della macchina perché a Torino è nata la prima macchina ed era un capitano si chiamava Bordino della scuola d'applicazione che fece mettendo una carrozza un po' di vapore alle spalle quindi un motore a vapore che spinse questa carrozza e questa carrozza è all'interno del nostro salone dell'automobile non poteva che essere lì quindi andatela a vedere tra l'altro è anche esposta in alcune occasioni e lì però ricordiamo anche la prima guerra mondiale perché fu l'esplosione dei mezzi e se andate davanti al salone dell'automobile forse passiamo tutti in macchina non ce ne accorgiamo fermiamoci anzi inviterei il comune a metterci un segno particolare che richiami c'è una ruota pensate questa è una ruota di dieci metri su un pignone che la regge che stia parallela al terreno però è una ruota con i suoi raggi e tutto attorno in bronzo è raccontata la storia della prima guerra mondiale di quegli autieri che andarono sul grappa e che riuscirono in pratica a contenere dopo il piave portando i rifornimenti la nostra resistenza dopo Caporetto ecco andatela a vedere perché è una cosa impressionante fervente ruote ferventanimi questo era il loro motto ed è ancora oggi una cosa importante a Torino che lo sappiamo meno è nata l'aeronautica è nato uno dei primi campi d'aviazione che adesso non esiste più di Mirafiori e andate a cercare in Torino dove è questa lapide in via delle Rosine anglo via Maria Vittoria ricordo ancora la prima caserma degli avieri di Torino del battaglione avieri di Torino che è un po' quello da cui è nata poi l'aeronautica militare nel 23 ma ne abbiamo un altro che è nato proprio a Torino sono i nostri bersaglieri questa era la caserma Ceppi è proprio vicina tra l'altro all'altro sempre in via delle Rosine però angolo via Principe Medeo e io dei bersaglieri anche oltre la marmora mi piace vedere quel monumento che è alle spalle che magari tanti non vedono neanche passando perché è una scelta lì sono i bersaglieri durante la prima guerra mondiale che ha una prorompenza emotiva fortissima questo bersagliere che esce quasi dal bronzo per correre all'assalto e pensate anche questa chi di voi sa dov'è questa lapide che è stata posta molti anni fa più di vent'anni fa dal nostro comune questa qui ricorda che qui a Torino sono nati i finanzieri si chiamavano in maniera diversa ma i finanzieri sono nati qua lui ha storto la bocca che i finanzieri non gli piacciono allora comunque però sono nati qua ed erano dei gendarmi del confine per quanto riguarda ecco allora pensate dov'è è sul mastio perché sono nati dentro al mastio i nostri finanzieri quindi ecco e lì il comune ha voluto ricordarlo ho finito signor sindaco so che gli impegni sono tanti perché questo è l'ultimo monumento che voglio lanciare così tanto perché lo sappiamo abbiamo poi un monumento importantissimo che compie 80 anni fra due anni nel 17 che è il monumento dedicato alla prima guerra mondiale siamo nel centenario della prima guerra mondiale è in piazza Castello è un monumento importantissimo tant'è che il suo sindaco ha voluto il 24 maggio quando partiva lì davanti fare la cerimonia di inizio o di ricordo o di memoria di quella guerra che non era una commemorazione era un ricordo perché non succedesse mai più ma che per tanti morti bisognava almeno ricordare quello che hanno fatto per l'Italia allora lì ci sono già le bandiere perenni vedete le bandiere dell'Europa e dell'Italia e poi è un monumento bellissimo pensate rappresenta un po' quelli che sono se andate sotto e poi ve li guardate un po' con attenzione adesso sarò velocissimo questo è il cosiddetto soldato studente lo vedete un po' trasandato col fucile che lo tiene quindi quasi fregandosene come tante volte sembrano fare i giovani nella realtà non è così però ecco questo è chiamato appunto il soldato studente questo è l'alpino guardatelo ha le mani più grosse di tutto non ha armi in mano perché le sue armi sono le mani guarda verso l'alto la montagna la conquista di qualcosa di lontano che deve raggiungere però lo deve fare con le sue mani omo faber fortune sue questo è una degli alpine che a me piacciono più di tutti c'è poi il bersagliere a confronto l'alpino scattante già con la mano sulla baionetta e l'altra sul fucile pronto a scattare questo è l'ardito con la maschera pronto a qualunque venienza non aveva paura di nessuno questa è l'ascolta anziana chi ha fatto il militare lo sa che quello che ha passato un po' di tempo diventa scafato quindi prima cura se stesso poi vede tutto il resto mentre questa è l'ascolta giovane ancora tutta impetita paura delle ispezioni è pronta lì questo è il soldato cittadino se lo guardate ha un aspetto di distinzione che guarda un po' al di sopra delle cose e questo è quello che forse piace di più a tutti è un soldato che ha il viso rude è il viso scavato dalla fatica dalla sofferenza quasi le spalle curve è carico e ha davanti un tascapane che nella realtà è il tascapane delle bombe cioè lui sta mettendo una mano per prendere una bomba ma sembra che invece prenda i sementi per seminare lo chiamano il soldato contadino ecco allora questo è un monumento per noi preziosissimo perché nei cento anni bisogna ricordarlo ha già ottant'anni noi l'hanno fatto proprio in ricordo dopo vent'anni dalla guerra pensate invece il giornale di un mesetto fa riportava questo questo è il retro di quel monumento che stiamo guardando davanti e se avete guardato Facebook negli ultimi venti giorni quando è venuta Madonna a Torino c'era c'è un film che girava su Facebook sapete che era fatto il figlio di Madonna la prima l'unica sera che è appena arrivato qua in albergo si è fatto accompagnare da un suo compagno ad andare con gli schettini e tutto il mondo ha conosciuto il nostro monumento attraverso gli schettini del figlio di Madonna allora io ritengo che queste siano cose che quella luce ci deve servire a tutti noi di guardarli meglio i nostri monumenti e di guardarceli ho messo l'ultima immagine di Torino innevato qui davanti era il ghiaccio dell'anno scorso quando hanno tolto il nostro locale per i pattini che è una cosa bellissima sociale speriamo che non facciano troppo rumore per la biblioteca allora noi vogliamo proprio che questa rivista sia per tutti noi per tutti voi per tutti per il nostro sindaco per chi la fa per soprattutto chi la legge un modo di amare la nostra Torino una luce che ci aiuta a guardare all'interno della nostra città volerle più bene rispettarla di più quindi con questo è l'augurio che questa rivista deve fare per tutti noi entrarci nel cuore grazie grazie a tutti grazie a tutti per essere intervenuti buona lettura grazie vi ricordo che fuori ci si può abbonare alla rivista e comprare i numeri che sono usciti grazie mille grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti